Ciao, siamo la seconda O dell'istituto Grande Sicuro e stiamo per fare un video contro lo spreco. Il progetto si chiama 100 volte il controllo spreco. Speriamo che vi piaccia. Sono Simone Zampese e il maggior numero di sprechi avviene nell'ambito familiare. Io sono Viem e nel mondo ci sono circa un miliardo di persone che muoiono di fame e noi sprechiamo tanto cibo da sfamare loro per ben quattro volte. Io sono Alessia e in Italia si spreca tanto cibo quanto si potrebbe sfamare i tre quarti di popolazione. Sono Robert. Alcuni piccoli consigli. Piccole porzioni, i cibi freschi vengono consumati per primi e il resto va alla vostra coscienza.